Salve, sono Giovanni Faenza, birraio di Ritual Lab, piccolo microbirificio che si trova a Formello, Roma Nord. Rappresentiamo una piccola realtà emergente nel mondo della birra artigianale, dei microbirifici nell'ambito del Lazio. Volgiamo in particolare attenzione a tutto ciò che è il processo produttivo, la scelta delle materie prime. Cerchiamo di promuovere la qualità e la genuinità all'interno del mondo brassicolo italiano. Organizziamo anche dei corsi di formazione presso la nostra struttura, dei corsi base di approccio al mondo della produzione della birra, svolti da Emilio Maddalozzo, che è un mastro birraio di fama internazionale con esperienza ventennale sul mondo della birra. Abbiamo anche delle piccole attività linidrofe, più sperimentali che altro, che riguardano la coltivazione del lupolo, che è una delle materie prime fondamentali e basilari in questo momento, ancora di più con la moda che c'è intorno a birre lupolate. Ad oggi abbiamo un centinaio di piante di cascade, una varietà americana, che sembra essersi adattata molto bene al nostro clima, al nostro ambiente. Giunto il terzo anno abbiamo appena cominciato ad utilizzarla in alcuni nostri prodotti, con degli ottimi risultati. Speriamo di portare avanti questa attività così poco battuta nel nostro paese.